buongiorno buongiorno coccodrilli no vabbè sta pieno anche stamattina mamma mia pieno di figa vuoi mai? it's lui o non è lui certo che è lui lo schizo soft più lo schizo di una volta che schizava così ah quanto era bello mamma mia lo schizo però la mattina ci vuole ragazzi sennò vuoi far partire buongiorno buongiorno ma buongiorno 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 sto cazzo no adesso io sto proprio di qui io sto proprio di qui fammi toccare il cincillato si fammi toccare il cazzo dai la fammelo toccare un po' bello nonnino bello eh quanto sei bello bello il cazzo guarda ti fa le carezzine da nonnino nonno ti fa un po' i capellini così ancora un po' guarda guarda che bello mi un pochino con te eh ma che hai fatto ho preso le chiavi dentro del canale ma che le hai messe tu oh ma che dici le chiavi del canale ma che le hai messe beh ma la fama eccola dormimo ma adesso andiamo a fare un po' di esercizio fisico ma tutti vogliono sapere i puntini sulla faccia che ne fai il solito poglione stiamo con Andrea ecco il menù di oggi qual'è? pasto della casa antipasto della casa vai un bel piatto di carbonara carbonara e un bel fritto misto e un fritto misto grazie eh grazie al cazzo dai oh ma dai dai vai su mia tartaruga ninja vai vai ma io l'alliamento fatto sta pieno chi è di Perugia sa ma credo anche qualcun altro un gol un gol Bazzani faccio un gol è la nor che te lo chiede dai Bazzani faccio un gol un gol che grande fa mauembo oh mauembo fa ah guardate ragazzi sto sempre a chiamare nuove maglie disponibili nuovi cappellini sul mio store fate swipe up e chi vuole mangiare qua? chi vuole mangiare questi qua? questi insieme a nonno Faustino fai due passi 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 fai 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 perché hai scappato l'hanno spostato è scappato il trete un'altra volta hai detto andate via che strainate troppi come noi abbiamo sempre un rimedio questi sono peccatori l'hanno spostato da davanti la chiesa c'ho un mio carissimo amico finocchio un mio carissimo amico da Roma siamo venuti per benedire un peccatore no 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 vai filippe era il prete c'è il prete c'è il prete è il prete è il sacrestano ale va a fare la spia dal prete va a fare la spia ma sono cazzo ma sono cazzo fai la veloce fai la veloce ragazzi queste scene dove le vedete tutto live ma dove volete andare a vedere improvvisate porto una berrettina e via al volo ma dove volete andare sta peggio dove volete andare fotografo ufficiale della santa sede della sante sede leva il dito oh fra fotografo ufficiale della santa sede ecco posto allora guardate che ospite oggi che abbiamo a pranzo anzi che ospiti perché chi c'è eccolo sei contento hermano e giammi grandissimo che bello che mangiamo oggi tagliatelle col sughetto col sughetto è sì sei pronto sì le fame sì ma non mangia dai per una maniera mi c'è fame guarda che bello grande nonno c'è fame guarda un po nonno fa così c'è fame fa 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 dice anche un'altra persona che è affamata tra l'altro è carico e vale le tagliatelle è chi vuole tagliatelle alzi la mano androne no chi le vuole chi le vuole che le vuole e tu chi le vuole chi le vuole vale la gianmarco grazie pronti grazie come si fa quando si passa quando passa una bella ragazza come si fa e via ti 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 grandi grandi qui stavamo dicendo che già c'hanno una cosa in comune amando hermano e andreone quindi diventate amici ufficialmente amici pugno pugno dell'amicizia mette come si mette il pardigiano nevica stagli Multi passo per ti pari ma te che India c'è un libro sembrava una giornata molto calda ma invece sta nevicando si riaprono tutte quante le stazioni scistiche, Madonna di Campiglio, Courmayer, Chamonix, Roccaraso, Campo Imperatore, addirittura anche la betone, incredibile, sta nevica, sta nevica, hanno visto la neve che fa? André sta nevica? Quanto? Com'è nevica? Vai, 50 grammi di pasta, ma tutte queste tagliatelle ritagliate, con doppia tagliatella ritagliata, che dieta è? Quella dico io. No, qual è? Che dieta è? Che dieta è? Che dieta è? Quella che mi puoi cazzo mia. Oh, e gli altri? Arciughe, arciughe, guarda come arciuga. Eh, eh, va via, eh. Sei carico? Tazzo, capisci in cazzo, capisci in cazzo? Fatte vedere un po' l'ermano, chi è? Per rivedere la giornata trascorsa, il compleanno di nonno Faustino, fate swipe up. Sì, facendo i vostri impassi. Fa swipe up, fa swipe. Sì, facendo i impassi. Swipe, è tutto su YouTube, compleanno di nonno Faustino. Ma può suonare? Vai, sono, sono. Vai, 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 è più carico. Oh, un'altra scampanellata, via. Un'altra, un'altra, un'altra. Abbiamo qua la Rocca, giretto con la, con l'Abart. Stiamo facendo un video pazzesco, vero ragazzi? Bellissimo. Fenomenale. E lui vuole fare la foto. Grazie. Mammo qui, guarda. Tutti qui. Tutti qui. Sì! Sì! comunque è stato veramente bello passare del tempo insieme a Ermanno e Gianmarco due persone veramente speciali, tanto di cappello a Gianmarco e Ermanno è super dolcissimo ragazzi, dovremo veramente imparare da queste persone da come vivono la vita, da come affrontano la vita, tanto di cappello veramente bellissimo un insegnamento per me super veramente, ho raccolto tante immagini, tanti video e ve lo posterò su youtube credo sabato, non lo so, quando riusciamo a montarlo e niente, intanto andiamo a vedere al teatro all'aperto cosa succede se vi è piaciuta questa iniziativa, andate a vedere il mio post facendo swipe up e lasciate un commento, voglio vedere in quanti commentate facciamo qualcosa dai buon uomo mi dica come si è comportato ma è che te la rendi più che te lo dico no? guarda, guarda, guarda la violenza parla per lui ma invece signor Sgarbi Vittorio Sgarbi capra, 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 caprone Tonnello Venditti che dice? e allora ecco che ci cominciasse un po' di palla e quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la saliva che è magnifica volevo un commento tecnico dal mister Spalletti un commento tecnico sul comportamento di quel luogo quel signore, tecnico è un prepotente nato quindi da cartellino rosso mister da cartellino rosso nooo stesso diretto rosso mi bastavano i cazzotti adesso anche il bastone anche il bambù ma guarda un po' il cincillato com'è oggi Filippo fai il tuo cazzo c***o il cazzo cincillato non fai il prepotente fa mi piacere le avete di coglione maaaaa 8 c***o di c***o o me ne voglio perché io 8 c***o ma cominci a zucca chi è arrivato? questa bacchetta che vuol fare me è data stata e sta zitta nooo mamma mia che comportazione fagliela senti sta bacchetta che gli piace fagliela senti beh ha sentato il bulletto del picoletto maaaaa a tutti sempre con le basse fermate com'è o no io? però lui è d'artagnano è d'artagnano d'artagnano zorro di fioretto ci sono le olimpiadi si prepara però lui addirittura che fa? resta sempre eee anche i cazzotti resta sempre guarda 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 come picchia è contenta è contenta destro sinistro antipasto misto ancora Faustinus Cleis allo ooo Il momento del Della Dentiera Salve adesso sta andando la spinta Il prossimo Eccolo No io non ci vengo No mister ci devi venire dai E no mica sono matto No mister ci devi venire dai Non ci vengo c'è troppo bene Cenare con un modello di Marcello Burlon è pazzesco Eccolo Manda ici per Marcello Burlon Non ci vengo c'è troppo bene Non ci vengo c'è troppo bene Wow